Ciao a tutti e buonasera, la prima dragata del Milan, la prima volta allo stadio Do Dragao di Oporto dopo aver giocato tre volte allo stadio Da Santas di Oporto. Attenzione, superiorità numerica Porto, adesso 4 contro 4, sale anche ben da serie, il tiro al palo. Palo clamoroso di Luis Diaz. Porto che ci pressa alti, bravissimo Alexi ma non fortunato. E' il Porto arriva, al tiro che mette fuori, Porto pericoloso con Mekdi Taremi. Rafa, Rafa, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rafa la mette in mezzo, Giroud non è riuscito a indirizzarla verso la porta, clamoroso. Col sinistro potrebbe crossare, no, crossa Sergio Oliveira, il colpo di testa ancora di Taremi. Alexi va al cross, Giroud di testa, la parata, la calibrata, la pensata Giroud. Continua ad avanzare il nostro avversario, lo fanno notare i nostri ragazzi all'arbitro qui. Esce male Tomori, la deviazione, palla alta. Grande salvataggio nostro. Gio Mario, Gio Mario prova a prendere in mezzo Calulu, Calulu si batte. Vai Pierre, non mollare, non mollare Pierre. Gio Mario insiste, il cross, il tiro al volo tentato dal Porto e poi Ben Nasser, il tiro, gol. Gol del Porto con Luis Diaz. Sembrava potessimo controllare Sergio Oliveira. Eh no, qui è fallo però su Ben Nasser, eh. Qui Ben Nasser c'è stata presa una schienata dietro, eh. Eh ragazzi, questo è fallo però, eh ragazzi, questo è fallo. Taremi su Ben Nasser è fallo, ragazzi. Non può non essere fallo. Ed è finita. 1-0 per il Porto, gol di Luis Diaz al ventesimo della ripresa. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti.